Ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale youtube una buona serata a tutti voi siamo nel dopo estrazione andiamo a commentare quello che è successo nell'estrazione di martedì 4 di giugno allora il mio diario del mister parte già alla grande al primo colpo di gioco con i metodi calcolati alla prima mensile già partiamo benissimo andiamo subito a commentare quello che è successo vi ricordo che per avermi metodi completi per ambo terno validi per sempre questi sono metodi che li prendete oggi vi valgono per la vita potete contattarmi via whatsapp al 348 75 47 715 questo è il mio numero di contatto per avere qualsiasi cosa o il singolo metodo o questo pacchetto metodi veramente incredibile vi ricordo la giocata star del diario del mister con l'ambo secco 49 54 e la terzina baricali nazionale tutte 49 54 90 ambo terno vediamo cos'è arrivato ed è arrivato già qualcosa lambata zig zag sulla ruota di bari paga in prima posizione il 53 sapete che poi di miei metodi arrivano anche vincite multiple quindi attenzione lambata cappa o metodo fantastico che ogni mese strapaga 29 sulla ruota di bari e sono due metodi andati a segno e il favoloso metodo ambata big che vi dico sempre di prenderlo 49 cagliari a colpo seconda posizione determinata ma è probabile che arriveranno ancora anche altre vincite perché questa è una vincita a colpo quindi potrebbero arrivare ancora altre viste quindi già tre metodi che vanno a segno alla grandissima mi raccomando e mi metto di mensili poi cosa vi ho regalato nell'estrazione del 28 di maggio io ho fatto vedere questa situazione dovevamo distanza 1 verticale 11 12 distanza 1 orizzontale 11 12 la stessa distanza sulle ruote di bari cagliari facendo la somma io ho regalato il 23 bari cagliari prima e quinta posizione una giocata che vi ho sottolineato anche nell'ultima analisi estrazionale di sabato primo giugno 1 2 e 3 in pochissimi colpi centriamo il 23 a bari in quinta posizione giocata regalata a tutti voi estratto determinato sortito in pochissimi colpi la giocata la possiamo continuare 23 bari cagliari prima e quinta posizione terzina ambo eterno secco 23 24 90 bari cagliari nazionale e tutte però come potete notare seguendo i miei consigli spesso e volentieri andiamo a vincere questi sono consigli totalmente gratuiti che voi potete ascoltare prendere nota soltanto guardando il video dell'analisi estrazione attenzione a questo 90 sulla ruota di cagliari ma anche sulla ruota di bari perché è una coppia di ruota che ci darà ancora belle soddisfazioni questa sera cagliari porta lambo cadenza 1 unito 31 81 la figura 9 in terza 27 che tra l'altro fa cadenza uguale con 67 di bari in verticale l'86 che un ottimo segnalatore ok quindi attenzione a ruota di cagliari sulla quale abbiamo la spia 72 di milano che vi ho presentato sul mio canale che ci porta i cinque abbinamenti su unica ruota di gioco di cagliari mi raccomando perché sono due ruote che col 90 ci daranno ancora bellissime soddisfazioni un 90 che metteremo in quarta e quinta posizione bari e cagliari 5 ambi secchi unica ruota di gioco metodo che rimane sempre vostro ormai conoscete benissimo il funzionamento dei metodi spia pagamento alla vincita di ambo secca ruota secca giochiamo solo una ruota solo cinque ambi tutta unica ruota di gioco 348 75 47 715 il numero whatsapp al quale contattarmi per giocare con me le mie favolose spie le mie spie che ci hanno dato sempre enormi soddisfazioni e lo sapete benissimo quanti 90 vi ho fatto totalizzare con i metodi spia bari anche un'ottima ruota che nelle estrazioni precedenti sia bari sia cagliari ci hanno dato degli ottimi segnali vi ricordo che bari con napoli fanno parte della mia giocata 90 segreto sono le due migliori ruote in assoluto per questo mese di giugno bari e napoli vi do un solo ambosecco praticamente un solo abbinamento al 90 con una tabella specifica dove avete l'abbinamento unico da giocare con 90 pagamento soltanto in caso di ambo di ambetto nella mia famosa ormai modalità vincita avvenuta contattatemi via whatsapp anche per avere il 90 segreto che è una bellissima giocata mensile napoli infatti porta a conferma 18 88 ambo di cadenza 8 e questo bellissimo gemello unito 77 88 molto interessante notiamo anche la coppia firenze roma l'84 dicessi al 90 quindi firenze roma su roma ben tre segnalatori del 90 l'uno il 56 e il 20 e su firenze la somma 90 21 69 con la figura 9 45 che va a cadenza con la sua diametrale 25 quindi cadenza 5 firenze roma in isotopia poi vediamo anche la cadenza 5 su genova che va a triangolo con firenze 55 75 figura 9 su milano 36 abbiamo tre figure 9 in quinta posizione cagliari firenze milano 81 45 bella questa consecutiva tra le ruote di cagliari firenze sapete che ormai firenze ha una super frequenza sul 90 ne abbiamo visti tantissimi sortire e secondo me quello che succederà anche nel momento in cui si andrà a sbloccare il 90 sulla ruota di cagliari che avremo uscite continue su cagliari del 90 ci ha fatto attendere ma secondo me andremo veramente a un grande recupero poi abbiamo palermo questo gemello unito 33 e 11 è da segnalare anche l'ambo 0 unito 30 20 sulla ruota di venezia e anche nazionale portando in cadenza 8 38 78 mi raccomando i metodi la data la data normale porta il 10 prima e seconda posizione bari cagliari la data plus il 54 bari cagliari seconda e quarta posizione data super con il 51 prima e seconda posizione bari cagliari chi vuole punire anche in terzina le tre ambate non si sa mai 10 51 54 amboterno ma io vi do nelle versioni completa dei tre metodi un solo abbinamento per ambo e ambetto sono metodi molto potenti sono metodi mensili con strategia di gioco settimanale quindi alla vincita dell'ambo dell'ambetto si paga la vincita la giocata io ve la do gratuitamente con l'impegno vostro di giocata anche qui potete contattarmi via whatsapp il mio numero lo sapete a memoria lo trovate in descrizione in ogni mio video trilogia fenomenale trilogia di metodi che ci ha dato veramente tante soddisfazioni so che tanti di voi ogni settimana seguono questi elaborati calcolando le ambate e ci hanno dato belle soddisfazioni anche di ambi secchi e di ambetti anche il mese scorso per esempio la data plus ha dato l'ambo a ruota quindi ci dobbiamo appuntamento all'estrazione di giovedì 6 di giugno un mese di giugno che è partito discretamente bene vedremo se otterremo delle buone vincite come io spero mi raccomando a quel 90 bari cagliari quarta e quinta posizione bellissimo e come vedete forte anche la coppia firenze roma forte anche la ruota di napoli che ciò nel 90 segreto vedremo cosa andrà a succedere in questo mese un 90 che secondo me dovrà recuperare alla grande su determinate ruote di cui 1 la ruota di cagliari e vedremo certamente delle sortite multiple vedremo quadri estrazionali con più di un 90 mi aspetta almeno quadri estrazioni con tre ruote di di sortita diciamo nello stesso volo estrazionale ripetizioni perché su cagliari e su bari mi aspetto le ripetizioni del 90 quindi staremo a vedere quello che succederà la cadenza guardate uguale anche su bari 23 53 cadenza unita guardate che bellissimo quadrato abbiamo proprio di cadenza baricali nelle stesse posizioni e questo è un ottimo segnale perché abbiamo la cadenza 3 la cadenza 1 unite e abbiamo se noi andiamo a sommare in verticale abbiamo il 14 da un lato in quinta posizione e l'84 dall'altro lato in prima posizione poi vediamo un po' ci sono delle somme interessanti qui abbiamo 53 più 81 abbiamo in diagonale guardate 23 31 fa 54 e questo 54 l'abbiamo dalla data plus e poi abbiamo vediamo 91 101 111 131 134 che fa 44 quindi abbiamo comunque in verticale la conferma di due cadenze 484 e 14 che possiamo tentare secondo me come ambate in prima e quinta posizione e come ambo secco ambetto quindi 84 14 ambo secco ambetto baricali a chi vuole può tentare anche le ambate in prima e quinta posizione sapete che di tanto in tanto vi do queste chicche sulle ruote di baricali come quella del 23 che abbiamo vinto su bari in quinta posizione chi vuole si può mettere anche il 90 perché no possiamo fare la terzina 14 84 90 visto che il 90 attesissimo su queste due ruote io dico di abbinarlo a qualsiasi cosa quindi avete già la terzina quella star del diaro del mister 49 54 90 possiamo tentare anche questa 14 84 90 sempre baricali mi raccomando nazionale tutte perché se cade sulla nazionale comunque è una buona vincita direi che ci siamo detti un po tutto quindi ci daremo appuntamento l'estrazione di giovedì 6 di giugno belli anche questi zerati roma torino terza posizione 20 e 50 che sono un bel segnale di 90 lo zerato unito per adesso scusate io ogni tanto poi vedo e vi aggiungo guardate la somma 90 60 30 venezia nazionale molto bella in verticale con questo triangolo 60 30 20 quindi anche qui c'è una bella situazione quindi vedremo ancora questo 90 sortire per bene su diverse ruote guardate anche il triangolo cadenza 8 venezia nazionale 88 78 38 questo non l'avevo notato quindi veramente delle belle situazioni molto particolari anche questo quadro estrazionale guardate anche triangolo cadenza 5 quanti triangoli che ci sono 55 55 75 genova milano un altro triangolo in cadenza quindi avete visto come ci sono delle situazioni molto particolari per adesso saluto a tutti mister